Maurizio Castagnani, l'emergenza, l'occupazione a Gela è molto evidente, soprattutto nel 2016, ci auguriamo che nel 2017 questo trend possa cambiare. Le chiedo subito, che anno è stato per il sindacato? Il 2016 è stato sicuramente un anno difficile da gestire, perché automaticamente non ci sono state quelle affermazioni di cantieri che si erano previste nel protocollo d'intesa. Si sono raggiunti degli obiettivi per quanto riguarda la raffineria di Gela e alcune cose per quanto riguarda le bonifiche ambientali di Sintial, stendono ancora a partire e a decollare tutta quella che è l'attività dell'esplorazione e perforazione, che era quella che in via di massima doveva in tutti i modi far sì che la popolazione dell'indotto in particolar modo fosse presa a lavorare nei vari cantieri. A proposito dell'indotto, è proprio l'indotto che soffre, come si può arginare questa situazione? L'argine dell'indotto può essere fatto solo con l'evoluzione dei cantieri. Noi stiamo tentando di pressare soprattutto, ripeto, per la questione dell'esplorazione e perforazione, di avviare tutta una serie di cantieri a partire anche dalla piattaforma a terra, che questa permette di assimilare e portare tantissimi lavoratori, soprattutto metalmeccanici ed edili, che sono quelli che stanno soffrendo di più in questa vertenza. Poi bisogna continuare a pressare le istituzioni perché non vengono a far meno le autorizzazioni che servono per l'apertura dei cantieri. Pertanto bisogna lavorare in sinergia. Da un punto di vista di interlocuzione si è fatto un buon lavoro nel 2016. Bisogna non abbassare la guardia assolutamente, bisogna in tutti i modi possibili parlare con le istituzioni e far sì che le autorizzazioni previste, senza che ci sia una strumentalizzazione di natura politica, possono arrivare per far sì che il Paese possa non portare la normalità, perché la normalità non è possibile portarla in questo periodo, ma avere più speranza di attività lavorativa. Ecco, ma ci sono dunque buoni propositi per il 2017 da quello che noi capiamo? Diciamo da un punto di vista della Green Refinery sicuramente sì. Stanno avviando tutta una serie di lavori che permetteranno di assorbire una quota parte di quell'intotto. Ripeto, rimane un tallone da kill, ma faremo il pressing dovuto, soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione e perforazione. Per quanto riguarda il personale del diretto, siamo arrivati alla punta massima, nel senso che ormai siamo arrivati a quelli che sono infatti di 400 unità. Nel progetto finale sono state messe in campo nuove iniziative che dovrebbero invertire la rotta, cioè non più personale verso l'uscita, ma del personale che dovrebbe rientrare, tra quali il progetto CARS, che è un progetto abbastanza di prospettiva per quanto riguarda quelle che sono il sistema delle autorizzazioni e quello che è il sistema dei badge.